una ricetta rivendicata da diverse regioni italiane nelle quali spesso si usano ingredienti diversi tra loro in bianco o al pomodoro ma sempre ricca di erbe aromatiche ciao a tutti da paolo bentornati sul canale cibo dentro oggi pollo alla cacciatora io farò la versione al pomodoro di questa ricetta che ritengo essere la più particolare ma in ogni caso iniziate a far rosolare il pollo in parti prima di aggiungere spezie e verdure in modo da poter rosolare il pollo senza rischiare di farle bruciare scaldate l'olio poi a fiamma viva rosolatelo bene dalla parte della pelle preparate poi un trito di verdure classico tagliate la carota a fettine poi a listarelle e infine tritatele ottenendo dei cubetti grossolani in modo che poi con la cottura prolungata non spariscano sciolti nell'intingolo fate lo stesso con un gambo di sedano io ho usato il cuore all'interno del gambo se usate le coste più esterne eliminate i filamenti del sedano con un pela patate per evitare che si disperdano poi nel sugo sono un po fastidiosi altrimenti in bocca chiudete poi con la cipolla che chiaramente non può mancare in un trito classico se come dicevo nelle varie regioni d'italia questa ricetta cambia per alcuni ingredienti in tutte sono presenti abbondantemente le spezie io uso rosmarino salvia 1 o 2 spicchi d'aglio in camicia origano e alloro aggiungete poi il trito di verdure che avete appena preparato e fatelo soffriggere a fiamma viva girando frequentemente in pentola per evitare che attacchi al fondo con il rischio di bruciare una volta che le verdure si sono ammorbidite sempre a fiamma sostenuta aggiungete un bicchiere di vino rosso e fate evaporare la parte alcolica quando l'alcol è evaporato ci vorranno un paio di minuti aggiungete i pomodori e aiutandovi con un cucchiaio schiacciateli sugli altri ingredienti in modo da distribuirli sul pollo e sulle verdure regolate di sale e di pepe poi iniziate la cottura vera e propria del pollo a fiamma bassa con pentola semi coperta per circa un'ora di tanto in tanto controllate il grado di cottura della carne ma soprattutto spostate il pollo per non farlo attaccare al fondo e copritelo con il sughetto di cottura per mantenerlo umido anche in superficie continuate la cottura in questo modo poi negli ultimi 5-10 minuti togliete il coperchio dalla pentola alzate la fiamma al massimo e fate restringere un po' il sugo in modo da concentrare i sapori nella salsa di accompagnamento anche in questa fase girate frequentemente la carne per non farla attaccare al fondo lasciate leggermente intiepidire e rapprendere la salsa poi come tutti giovedì buon divertimento e buon appetito con questa preparazione a giovedì prossimo sempre dalle 11 del mattino e sempre qui su Cibo Dentro ciao